Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Vedete che un terzo dei ricoverati del Veneto sono Covid in questo momento, perché 6.000 più 3.000 fa 9.000, faccio un conto alla grande, spannometrico, quindi un terzo è rappresentato dai pazienti Covid. Luca Zaia, in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, per aggiornare i cittadini sulla pandemia da coronavirus in Veneto, ha ribadito che un terzo dei ricoverati in Veneto oggi è Covid positivo. Ieri le regioni hanno incontrato in videoconferenza il governo per lavorare sul nuovo DPCM, che verrà presentato proprio domani. I punti sono molti e tutti salienti. Per i veneti i ristori, innanzitutto, ieri il Presidente ha annunciato l'arrivo, se l'idea diventerà realtà, di 250 milioni per le ordinanze restrittive regionali, dei quali 20 destinati al Veneto. E ancora la questione della montagna, degli impianti chiusi, con conseguente svuotamento di hotel e ristoranti, ma anche il Natale e il Capodanno e come verranno organizzati. Tamponi molecolari ad oggi sono 2.819.000. I test rapidi, oltre un milione fatti ad oggi, positivi ad inizio pandemia, 150.909. 68.792 gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore, 2.782 nuovi contagiati, con 3.094 ricoverati totali. Terapie intensive invece sono a 340. E ai 3.094 si aggiungono i 6.979, che sono ricoveri ordinari non Covid. Insomma, un terzo dei ricoverati in ospedale in Veneto oggi è dato dai pazienti Covid. Un dato è concreto, ha spiegato Zaia. I ricoveri in ospedale crescono, dipende dal ritardo della curva del contagio da Covid in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Da inizio pandemia abbiamo avuto la parte alta del Veneto colpita, quella o meno metropolitana. Dall'altro ci sono gli assembramenti. Se continuiamo a generarli, arriveranno altri pazienti negli ospedali. La pressione nei nostri ospedali è alta. Facciamo attenzione agli assembramenti. Le terapie intensive ce ne sono mille disponibili in Veneto, ha ribadito il Presidente. Ma il personale sanitario è sufficiente? Saremo tirati come una corda di violino. Significerebbe polarizzare gli ospedali e il personale sulle terapie intensive. Non vorremmo mai arrivarci, ma siamo pronti a tutto. Tant'è che nei prossimi giorni presenteremo un piano per la quinta fase sanitaria della Covid. Speriamo ressi solo teorica, ma presenteremo il nostro piano per un assetto di guerra totale. Sul fronte del nuovo DPCM si parte da una base, ribadito Zaia, la zona gialla con le sue restrizioni. Ma non ci sono oggi sostanziali novità, ha affermato ancora il Governatore. Nelle prossime ore cercheremo di capire quali notizie ci saranno. Da prima di tutto viene la saluto, poi chi si sacrifica deve essere ristorato. Dalla terza decada della nostra ordinanza regionale scadrebbe il 4 per evitare un buco di 24 ore ed entra in vigore appieno il DPCM. Vedremo come affronteremo il tema degli assembramenti. Il testo del nuovo DPCM non è arrivato in mano ai Governatori e la riunione di questa mattina non c'è stata. Forse lo faremo nelle ore più tardi, se lo augura lo stesso Zaia. Io penso che le scuole, sono d'accordo con quello che ha dichiarato il Ministro più volte, devono essere aperte il prima possibile. Noi essendo in zona gialla, in Veneto, abbiamo le scuole aperte fino alle scuole medie, prima, seconda e terza media, per cui asili, nidi, scuole elementari, scuole medie fino alla terza media. Non ci sono problemi nelle scuole, da quello che risulta a me nella nostra città, beh, chiaramente sempre qualche, salvo qualche caso evidentemente, però come si dice a livello nazionale qui riscontriamo questi dati. Non abbiamo dati diretti noi, noi abbiamo con l'ASLE, e qua io volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva Dario. Noi abbiamo fatto in Veneto, abbiamo fatto una scelta di non fare ordinanze, cioè oltre a, come diceva prima Antonio, aver dall'inizio aderito a queste ipotesi di evitarci, di creare confusione anche noi con le ordinanze separate, comune per comune, come avremmo tutto sommato avuto diritto, in Veneto, oltre a non fare questo, abbiamo anche scelto la strada della continuità e della grande collaborazione con la regione Veneto, tant'è che l'ASLE ha i pieni poteri sulla gestione e non abbiamo costruito accordi diversi, orari, eccetera, anche sui regolamenti che vengono fatti nell'apertura del commercio, che poi coinvolgono evidentemente la vita delle famiglie, perché se una persona fa la cassiera, ecco, è chiaro che non può avere una vita diversa da una cassiera tra Venezia e Padova, tanto per spiegarci, o tra Venezia, comune di Venezia e il comune di Spinea, che è un comune vicino, noi abbiamo tutto uguale, pensiamo di continuare su questa linea, per cui credo che queste cose dei tamponi da fare a scuola o altre situazioni in giro, ecco, noi lo deleghiamo alla regione, all'ASLE, con cui abbiamo un rapporto fortissimo, non solo io come città metropolitana di Venezia, della nostra zona, ma anche tutti gli altri sindaci, questo modo di operare ha portato di grandissimi vantaggi, cioè tutti sanno chi fa cosa, cioè da, per carità, da migliorare un sacco di robe, ma direi che sia il caso di continuare così, per cui anche nelle scuole, attenzione, io sono un operativo, chiunque mi conosce lo sa, non è un problema di lavoro o di responsabilità, però sarebbe opportuno che anche noi avanzassimo questa proposta, che mi sembra interessante, di fare i tamponi nelle scuole, venisse comunque lasciata sempre la gestione all'ASLE, per cui è normale che il Ministero parli con la regione, ecco, noi potremmo indicare eventualmente, se ci viene chiesto, quali possono essere eventuali proposte di organizzazione migliore per i trasporti, per gli orari, eccetera. Ripeto, il faro principale è che i ragazzi devono tornare, quelli che mancano, cioè le scuole superiori, nel nostro caso, e l'università, il prima possibile a scuola. È un faro in blu mila, dopodiché, ovviamente, si fa quel che si può, io sono qua per dire la storia del ma ormai manca otto giorni a Natale, queste cose qua, non mi convincono assolutamente. Il prima possibile, ragazzi, devo tornare a scuola, perché è un segnale importante per il futuro loro, insomma, non credo che abbiamo nessun diritto di procrastinare ulteriormente, insomma, che in Europa non si fa così, e ho apprezzato le parole della Ministra quando dice, riapriamole. Bene, insomma, siamo d'accordo, così evitiamoci altri discorsi. Dal 27 novembre ad oggi sono 14 le persone che hanno contratto il virus. Quello che mi preme dire oggi è che abbiamo due persone, dalle notizie che mi hanno dato le famiglie, due persone ricoverate presso l'ospedale Covid di Esolo. Una, insomma, è abbastanza bene, ha bisogno di ossigeno, ma è sicuramente una condizione, diciamo, normale per questo tipo di infezione, mentre abbiamo una persona di un 87enne, un maschio, che purtroppo è in situazioni critiche, probabilmente associate ad altre patologie. Facciamo i migliori auguri a tutti. Devo ancora purtroppo segnalare dei comportamenti che mi vengono riferiti all'esterno dei pubblici esercizi, in particolare dei bar. La sensazione in particolare riguarda l'uso scorretto delle mascherine, ovvero una volta consumato, bevuto qualcosa, si continua a tenere la mascherina abbassata e si parla con amici, eccetera, eccetera. Allora, ancora una volta, io capisco che la socializzazione è importante, guai se non ci fosse, ma in questo periodo la mascherina è una cosa che deve essere obbligatoriamente tenuta correttamente, e quindi appena consumato, c'è anche la scritta nell'ordinanza che vi ho letto qualche giorno fa, appena consumato, appena fumato la sigaretta per chi fuma, insomma, la mascherina va ricondotta immediatamente nella posizione giusta, cioè a copertura del naso e della bocca. Mi raccomando, perché lo ricordo, se mai ce ne fosse bisogno, che adesso nel caso che la polizia, le forze di polizia denotino che ci sono un paio di violazioni, più di una violazione, è disposta obbligatoriamente, seduta stante, la chiusura del pubblico esercizio. Quanto è facile, quanto è difficile mettere assieme tre città su un progetto di questo tipo? Devo dire che la necessità di convolgere più risorse per un unico obiettivo, per quanto difficile possa essere, non ha oggi alternative e non riguarda solo le amministrazioni, riguarda anche la capacità di, come si dice, fare squadra con gli stessi esercizi commerciali, con le associazioni, con le scuole. Ad esempio, uno dei motivi che rendono interessante il centro della città è l'esperienza del Giffoni, dove sono i ragazzi stessi che si appropriano degli spazi e fanno vivere il centro. Quindi o ciascuno fa la propria parte oppure gli obiettivi saranno difficilmente raggiungibili. Che aspettative vi state facendo nel breve termine, nel medio termine e nel lungo termine? Beh, c'è un indicatore diciamo sintetico, significativo che noi monitoriamo con frequenza regolare ogni sei mesi ed è il numero di vetrine sfitte su circa 550 spazi all'interno del distretto urbano del commercio di San Donà gli sfitti sono intorno al 12,5% è un valore sicuramente migliore rispetto alla media di molte altre città venete penso a Piazza Ferretto dove si raggiunge il 25% nel nostro caso fino a che non saranno tutte occupate comunque non ci si rilasserà e quindi faremo un'azione di convocazione dei proprietari o delle agenzie che hanno in mano questi spazi e capiremo con loro come riuscire a occuparli con attività nuove non solamente commerciali come è avvenuto ad esempio in Galleria Bimbi dove siamo arrivati alla piena occupazione degli spazi mezzi spergi sale in azione fin dal primo pomeriggio di ieri per il trattamento preventivo antichiaccio e lame sgombra neve all'opera dalle prime ore del mattino di oggi su tutta la rete di Autovie Venete la concessionaria autostradale non si è fatta trovare impreparata davanti alle avverse condizioni atmosferiche il piano invernale messo a punto dalla società sta funzionando e tutte le direttrici sulla A4 A34 A23 A28 sono pulite e percorribili non sono stati segnalati disagio alla circolazione oltre confine la DARS la società autostradale della Slovenia ha chiuso l'accesso ai mezzi pesanti ai valichi di Fernetti e Rabuiese per questo motivo Autovie Venete ha dato attuazione al protocollo operativo per la regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti in autostrada in presenza di neve in sostanza i mezzi che hanno massa superiore alle 7 tonnellate e mezza diretti verso il confine di Stato vengono fatti deviare sulla A34 e stoccati dalla polizia stradale e dal personale di Autovie Venete sulla corsia di marcia del tratto tra Villesse e Gradisca di Sonzo lungo la direttrice che porta a Gorizia in attesa della riapertura dei valichi si tratta di una delle 5 aree di accumulo previste dal piano invernale per fronteggiare situazioni di criticità e per la gestione coordinata della circolazione su tutta la rete stradale del flui di Venezia Giulia e del Veneto orientale approvato il progetto esecutivo per il risanamento e il consolidamento strutturale del ponte sul fiume Livenza lungo la strada provinciale 54 Sandonacaorle a Porto Santa Margherita il sindaco della città metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato il decreto che approva il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale del ponte che scavalca il fiume Livenza lungo la provinciale 54 Sandonacaorle nella località di Porto Santa Margherita l'intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche da realizzare nel 2021 e prevede un investimento di 1.600.000 euro finanziato dal MIT il progetto che riguarda la strada metropolitana 54 è tra quelli prologrammati dalla città metropolitana a seguito del monitoraggio e alla mappatura di tutti i manufatti e ponti presenti sulle nostre strade per garantire la massima sicurezza a veicoli e automobilisti in transito lungo le arterie stradali metropolitane ha spiegato il sindaco metropolitano Brugnaro il censimento completato nel 2013 in seguito al sisma che aveva colpito l'Emilia Romagna ci aveva consentito di avviare un monitoraggio e individuare eventuali criticità e necessità di manutenzioni la sicurezza della rete viaria e l'efficienza delle strutture sono per noi un obiettivo strategico fondamentale il progetto prevede una serie di interventi si partirà dalla demolizione della campata centrale di quelle di estremità e loro ricostruzione e quindi la predisposizione di sistemi di ritenuta meccanici in corrispondenza delle sele gerber delle pile e delle spalle per impedire la perdita dell'appoggio in caso di sisma e per contrastare lo spostamento laterale dell'impalcato verrà poi effettuato un risanamento dei calciestruzzi gli interventi di risanamento e consolidamento strutturale prevedono la preventiva rimozione per quanto possibile degli spessori di calciestruzzo carbonato e la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza dovranno essere rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente aderenti nelle zone di calciestruzzo meno ammalorate e dove non risulta necessario ricostruire lo strato coprifero si provvederà alla rasatura delle superfici per il risanamento delle sele gerber si eseguirà la preliminare rimozione del calciestruzzo incoerente o in fase di distacco fino al successivo trattamento dei ferri d'armatura esposti all'eventuale sostituzione delle barre non più efficienti e alla ricostruzione finale dello strato coprifero verranno quindi sostituiti tutti gli appoggi delle travi delle campate in calciestruzzo per le quali non è prevista la demolizione momento di crisi a causa di questa pandemia che coinvolge un po' tutti i settori c'è un po' di sofferenza c'è un po' di ansia uno dei settori un po' più colpiti da questi rivieri da queste norme da queste prescrizioni è sicuramente il mondo dello spettacolo abbiamo il piacere di intervistare Francesco Zanelli voce solista degli Absolute Five che ovviamente anche lui con il suo gruppo sente in maniera particolare questo momento così di emergenza ecco Francesco come vive questo momento un artista? Beh è un momento storico senza precedenti direi perché comunque in ogni momento di difficoltà la musica di solito non si è mai fermata o almeno non si è mai fermato il vero contatto col pubblico questa è una cosa nuova successa però ha aperto nuove strade nuove occasioni comunque per rimanere in contatto con il pubblico ovvero basti pensare alle tecnologie basti pensare al web ai social quindi comunque nel male nel male della mancanza del contatto vero e proprio comunque ha aperto la strada per creare nuove cose creare nuove idee creare nuove esperienze anche a livello di emozione in una via che non è quella del tu per tu ecco chiaramente penso che un artista manchi soprattutto il contatto con il pubblico perché un artista vive del contatto con il pubblico in ogni concerto in ogni occasione in cui fa la musica noi vorremmo mangiare anche un po' un messaggio così di speranza c'è un vecchio brano molto importante dei pochi che dice chi fermerà la musica io penso che la musica non la fermerà nessuno infatti effettivamente la musica anche in tutto questo periodo di difficoltà non si è mai veramente fermata addirittura lo streaming stesso della musica quindi l'ascolto tramite il web è addirittura aumentato in questo periodo stando appunto in mancanza di musica la gente ne ascolta di più ne ha addirittura bisogno ovviamente si sa manca il contatto vero e proprio con l'artista e per l'artista manca il contatto con il pubblico ma effettivamente non si è mai fermata la musica bene Francesco allora penso che voi appunto ammiro moltissimo questo spirito di non di non arresa a un problema che abbiamo tutti quanti in ogni casa si sente ripeto c'è molta ansia per questa emergenza quindi fa molto piacere sentire vedere voi giovani che in qualche maniera insomma state preparando una grande ripresa grazie mille grazie mille infatti la speranza c'è la speranza c'è ed è sicura comunque la musica continuerà e noi stessi continueremo io stesso continuerò ma tutti quanti quelli che lavorano nell'ambito artistico e dello spettacolo continueranno a lavorare e presto si ricomincerà gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna i nostri servizi i nostri live li trovate sulla pagina facebook di media 24 ci fermiamo con questa edizione torneremo con le altre nel corso della giornata rimanete con noi alla prossima grazie mille